Musica Oggi con l'associazione La cura Sifarte abbiamo promosso un'iniziativa per promuovere i temi legati all'oncologia Soprattutto riguardo la medicina estetica, quanto la medicina estetica può donare un sorriso a chi ha avuto un problema oncologico importante Quindi in questo momento la politica deve anche occuparsi di questo Se qualcuno chiede che la medicina estetica è importante, io dico per questi casi sì Se è legato all'oncologia, se può servire a donare un sorriso, perché no? E' chiaro che la strada è ancora in salita, la politica e le istituzioni, i legislatori devono fare ancora tanto Ma soprattutto c'è bisogno di dare sempre più forza e più coraggio a chi oggi soffre Quindi noi ringraziamo l'associazione che oggi ha promosso un'iniziativa lodevole legato ai capelli, alle parrucche Per appunto donare, come dicevo prima, un sorriso a tante donne che ne hanno bisogno Per appunto donare, come dicevo prima, un sorriso a tante donne che ne hanno bisogno